La mia mamma è dedicata a mia mamma e quindi mia mamma si chiamava Marcella, adorava il babà e allora ho fatto un dolce per lei che non c'è più problema. La mia mamma è sempre mamma, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. La mia mamma è sempre mamma, non lo so, 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 non lo so. Il babà nasce in Polonia, cioè il dolce polacco. La mia mamma è sempre mamma, non lo so, 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 non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Ora ho messo farina, sale, zucchero, lievi di birra, vaniglia e limone. il sole, la vaniglia, la citrina, la droga e la manca. E poi mano a mano metto le uova, un po' alla volta, perché appunto è molto ricco di uova, molto morbido questo impasto, e bisogna metterle un po' alla volta. Questo dolce, questa marcellina, ha una crema, un tipo un lemon card al limone. È un gelè di Ribes. Adesso chiedo a Christophe se comincia a prepararmi la crema al limone, la lemon card. Ora, Christophe, facciamo preparare la crema al limone. Acqua. Succo di limone. 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 E scorta di limone. Io ci visce scurca di limone. Abbiamo sempre bene, quindi Christophe ha messo gli ingredienti, sta scaldando, diciamo, la crema. Dopodiché, una volta che sarà cotta a 82 gradi, 84, che è la temperatura che coagula l'uovo. quando è 84 gradi? Si toglie. Vi facciamo la crema. Si raffredda un pochettino. Succa delicatamente. E se aggiunge il burro o una buona margherina, come potete trovare in questa azienda. E comunque, come dice un grandissimo mio collega, Iginio Massari, la pasticceria è qualcosa che deve dare godibilità. Se uno ha qualche problema, va in farmacia per le medicine, non in pasticceria. E se uno ha qualche problema di salute, va in farmacia, non in pasticceria. Quando hai problemi zdrowotne, bisogna andare in pasticceria, non in pasticceria. In pasticceria si va a pestare bene. In pasticceria si va a pestare bene. Ok, quindi la crema è pronta. Ho fatto una piccola dose per fare giusto una dimostrazione. La crema è pronta. Prendiamo... Ok. Ovviamente qua ce l'ho già pronta. fredda, fredda. Lemon card è bene farlo il giorno prima. Ho visto alcune creme che mi facciamo. e la crema è pronta. Il grasso all'interno cristallizza bene e si solidifica. Quindi, per esempio, la crema è molto meglio cristallizzare. e la crema è la consistenza. Ok. Adesso dò giù un po' l'impasto. Qua manca solo il burro. O la margarina. Il burro è il burro. Il burro è il burro. Il burro è il burro è il burro. Il burro è il burro. Ovviamente è in un bicchierino, no? Mettetevi un burro normale, in uno stampo. Prendete il burro è il burro. Prendete il burro è il burro, il burro è il burro. E questo ha visto una caratteristica. Quindi la mia idea invece è stata di stenderlo come forse un pan di spagna. Allora... C'è un burro è il burro. Allora... Il burro è il burro è il burro. Il burro è il burro. In Sicilia è il burro. A questo punto... Quindi per fare questo... Aspetta. Normalmente... Normalmente, se ne s'è spedale, ci sono tanti postaggi. O... Se ne sceglie, ci sono tanti postaggi, ci sono tanti postaggi. Ci sono tanti postaggi. Ci sono tanti postaggi. Per fare questo, bisogna necessariamente, una volta impastato il burro, raffreddarlo a 0 gradi. Allora... Se ne so, 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 se ne so, è impossibile stenderlo. Perché, ne so, ne so, ne so, ne so, ne so, ne so. Il burro è molto morbido. Il burro è un bambino tradizionale, faccio saltare la pasta nelle mani, dopo lo faccio vedere. La burro è in una ambigna tradizionali, in un punto di testo, con un prodotto che c'è messa. Le so, ne so. Questa pasta si attacca dappertutto, perchè è morbidissima. E si attacca il burro, e in un bambino, le so, e in un battaglio, la prima cosa tocca. Quindi la sfida era di stendere il babà come fosse un panno di spagna o un biscotto. Il suo movimento è così, che si trasforma in un po' di bischopi. Inoltre la cucina non si tratta, ma si tratta. È ancora un po' più complicato perché ovviamente con la sfogliatrice hai una cosa molto perfetta. A mano è un po' più difficile, però ci siamo riusciti. Il babà ha la caratteristica che è una pasta che si riesce ad inzuppare molto molto bene. Trattiene molti liquidi. Ma sta con caratteristica che è molto dolce quando c'è una crocca. Ora faccio il primo strato. Comincia ad incordare l'impasto. Prima di metterlo in forno l'ho spennellato con della margarina e del burro. Prima di metterlo in forno l'ho spaventato con la margarina. Questa è la gelatina di Ribes. Questa è la gelatina di ribes. Quindi si comincia a bagnare molto bene. Prima di metterlo in forno l'ho spaventato con la margarina. Ora metto uno strato di gelatina di ribes. E anche questa dà umidità all'impasto. Adesso ovviamente avrei dovuto avere l'abbattitore, raffreddare e poi aggiungere la crema di limone. In questo caso vado senza fare la parte successiva di raffreddamento. Quindi si potrà mescolare un pochettino. Però mi serve per farvi vedere come monta questa torta che è molto semplice. I miei dolci sono semplici. Mi piacciono le cose semplici. E mi piace molto semplici. Oggi ho visto che i robinismi sono prodotti e analisi. Quindi mi dava i miei dolci per scegliere. C'è un pochettino in Africa da Sjokovnica. A Bittrosch che ci nasce. E poi ora possiamo dare un pochettino. È già la vita così complicata. Facciamo i dolci semplici almeno. Ma devono essere molto buoni. Allora ci proviamo. Qualche minuto. Adesso faccio assorbire bene la bagna. Prendo lo stossicadente. A volte per aiutare la bagna bagniamo anche con lo stossicadente. Così va dentro bene. Ho visto in un pochettino. In un pochettino. E quindi ho un pochettino. Ho un pochettino. Ho un pochettino. Ho un pochettino. E' un pochettino. E' un pochettino. Come dici? Voglio che mi traduci anche a me. No. Sto dicendo. Acqua e zucchero. Perché lui parla e non dice niente. Ho un pochettino. E' un pochettino. Sto dicendo che tutti i pasticceri sono contenti quando ci metti tutta questa acqua e zucchero. Allora fare i dolci è una passione però bisogna anche monetizzare. Se non si monetizza siamo rovinati. Quando non c'è casa, non c'è cosa fare. Ovviamente, ancora da un pochettino. Smarriamo. Do sciocco. E noi facciamo un pochettino. Facciamo un pochettino di ribes. Ripeto, se avessi da battitore, adesso raffredderei così le due paste, le due creme non si mescolano. Cioè, escerà smuvi. Chi mi aveva scocco vinicano a pevano davvero le troche. E tu ne puoi aggiungere le altre creme. E non mi mesciavo se ci sono. Allora ne dico ben generale le torte. C'è un po' trafitto. Quando faccio di questo prodotto, faccio il mignon, la monoporzione e la torta. C'è un pochettino di formato. La torta, la monoporzione e i mignon. Poi se vogliono i mignon mavo, se vogliono fare una cosa. E questo mignon è proprio questa regola. C'è un pochettino che non c'è un pochettino di 10 grammi. Sto dicendo che qua non c'è il mignon. E gli ho detto che c'è una regola che il mignon deve pesare intorno ai 20 grammi. 18-20 grammi. La monoporzione è 80-120 grammi. O se mi nasce 20 grammi di mignon. Ancora deve lavorare l'impasto. C'è una crema di limone. Chris, dopo mi pulisci il banco. La mia spatola, per favore. La mia spatola. Allora sopra è proprio variegata. Ha queste striature rosse. La mia spatola è molto più piccola. 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 Sto dicendo che stai facendo il colore della bandiera polacca. Il bianco e il rosso. Un dolce polacco. Il bianco è pronto. Ok, la torta è pronta. Ora andiamo a raffreddare. Aspetto ancora due minuti l'impasto per vedere la consistenza e capire perché va raffreddato bene. Sennò è impossibile stenderlo. Dopodiché prenderò la torta che ho già raffreddato che è quadrata come misura. Quindi non è questa. E poi dopo andiamo a degustazione. Ora andiamo a raffreddare. Ora andiamo a raffreddare. Ora andiamo a raffreddare. E' importante che l'impasto non superi mai i 27 gradi. ci sono due problemi. Il burro o la margarina ci scioglierebbe quando viene a contatto. ed essendo una pasta molto morbida non lo riesce ad assimilare. Non vogliono niente così poco, più o più di 27 gradi, perché tutti i sguarnici non potrebbero raffreddare. non potrebbero raffreddare. Allora questo è un impasto. Quindi pensate a stenderlo a mattarella. E adesso è questa consistenza è l'impasto del babà. Adesso il procedimento è lasciarlo puntare, quindi diciamo lievitare una mezz'ora fuori. Appena si è mosso leggermente lo schiaccio lo metto o in freezer o in abbattitore. Lo giro un paio di volte così si raffredda bene sotto e sopra. Quando è bello freddo in due o tre volte lo stendono in sfogliatrice. metto sulla teglia e lo buco bene, molto bene. È importante bucarlo bene e dopo di che si va a cuocere a 180 gradi. Il babà si fa in questo modo qua. quando le palline se avessi gli stampi del babà e per questo l'impasto deve essere così morbido. Oh, vedete? Adesso hai bisogno di questa tecnica. per decorare la marcia non parla non parla parla non parla parla d'acqua con questa capposta e la decorazione mi piace anche i dolci moderni Occivisse, anche molto molto patrì su una nuova cugierna. Allora, sopra ho messo una gelatina neutra per proteggere la lemon card. Allora, on skończyle. Proszę, oklaski dla niego. Grazie.